musica ciao ragazzi oggi non faccio l'intro perchè ragazzi oggi non faccio l'intro perchè non mi va allora siamo io e fra è vero mi mancava un sacco questo non mi tocchi perchè oggi dobbiamo parlare di cose molto serie e sensate quindi l'ambiente per gli esteri non viventi il loro modo di vedere il mondo e approcciarsi alla filosofia umana dammi una dub no in realtà ho mancato la mano lasciate stare il mio outfit ragazzi perchè stiamo facendo dei video pazzeschi stiamo facendo dei video pazzeschi qui abbiamo Ron, Delu Johnny Crick detto anche per farza esatto e guardate la ragazzi cosa c'è io non so allora questo video uscirà domani ovvero non lo so che giorno sinceramente però uscirà la settimana prossima e faremo tutti questi ragazzi qua faremo delle challenge così ragazzi non potete capire che spettacolo e niente adesso oggi questo video qua è perchè sono a Milano e ci sto due giorni perchè vado finalmente anch'io nella Melagodo house perchè infatti ho assunto lui che sarà il mio io spiegherò a tutti quanti ogni centimetro quadrato a dettaglio con uno scanner x per x la decima della Melagodo dai mi hai rovinato l'obiettivo è bello un tot si fa pare zio è bello un tot oh il flux non è ovunque oh però 94 all'ora mamma mia signori già strano 94 all'ora devo superare i 100 dai prova a superare i 100 zio dimmi quando sei pronto aspetta che deve fare e poi andiamo a fare video per Dredd Pronto? 97 Cazzo, non lo faccio l'ultimo Porca puttana Raga, c'è un raffreddore che è prunico 95 95 Allora ragazzi, finalmente dopo 5 ore, adesso andiamo nella Melagodho House Io e Johnny per la prima volta la vedremo Iniziamo a metterci tutta la nostra bella postazione Ma mi stai guardando lo stemma Dell'atletico? Perché ci sono È vero Johnny, cosa ne pensi? Ma io penso che Comunque sia una bella casa e Comunque ho vinto contro Ron E niente, allora Adesso andiamo a cambiarci Vado a svapare un tot raga Mi sono perso il telefono E la batteria come si è messo? C'è tu Ragazzi incredibile 4 secondi Allora ragazzi In questo vlog qua Che non so come verrà minimamente Secondo me verrà anche parecchio Parecchio corto Ma sti cazzi Sono qua nella Melagodho House Qua c'è il mio amico Neron Compagno di merende Compagno di studio Magari merende Il giorno che ha mangiato un caldo C'è il giorno Abbiamo ben affidato di fare Una streaming che è andata Veramente benissimo Davvero Mi sono veramente Quando ho commozionato Un tot Allora qua c'è la mia postazione Che ho già tolto Il mio pc eccetera Qua c'è una sciogamana Che adesso metto via Perché adesso torno Alla volta di Modna Perona c'è qua Tutto il suo setup Dove farai video Praticamente una volta A settimana Il lunedì e martedì Saremo praticamente qui A registrare A streamare Soprattutto finalmente Abbiamo una connessione Veramente Veramente Power Quindi raga Sarà Una Una sburrata Poi qua ci vive Dred Che quindi Lui streamerà Anche lui Forse Questi giorni E probabilmente Avremo intenzione Di fare Una grandissima streaming Di 24 ore Prima di Natale Giusto però Ci muoio prima Di auguri di Natale Probabilmente si Moriremo ragazzi Però siamo in 5 Cioè nel senso Saremo in 5 In 4 Adesso vedremo Sicuramente ce la caveremo Ragazzi Allora io adesso Torno a Modena Con la mia macchina In questi giorni qua Tornereò Qua c'è anche Il mio amico Bello Lui che in teoria Dovrebbe essere Non sei ovunque però Sei arrivato molto sterzo Zile Hai fatto Vero Non so Perché io svapo Un tot vecchio Allora A parte che è enorme Staccare veramente Una villa Allora La settimana prossima Usciranno delle sfide Di calcetto Che ci sarà anche Il mio speciale Milione Che ragazzi Non potete capire L'avete visto Anche all'inizio Del video Fa qualcosa di pazzesco E fatemi sapere sotto Nei commenti Se volete Se volete Le streaming Di nuovo Che ti troveranno Quasi ogni lunedì Sul mio canale E le streaming Anche sul canale Degli altri miei amici Io vi saluto Vi ringrazio Sono qui da Gabo Di squadre tutto Adesso vi faccio Salutare anche da loro Rifaccio la scena Ciao 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 ragazzi Ciao Ciao Bene Grazie Molto Molto gentili Grazie Ciao Run